Amici di Player Inside, bentornati nel nostro vicolo preferito per una top molto interessante, ovvero giochi che hanno predetto il futuro. Sì, proprio così, signori. Gli sviluppatori sapevano tutto, oppure è successo tutto tendenzialmente a caso. Propenderei più per la seconda. Fatto sta che certi casi sono proprio inquietanti. È vero, scopriamoli. Homefront è un FPS del 2011. Il gioco, la cui trama si concentra sull'unificazione della Corea, ha correttamente predetto la morte di Kim Jong-il, tra l'altro sbagliando la data esatta di solo qualche settimana e l'ascesa del figlio Kim Jong-un al potere. Nel gioco tra l'altro si azzecca che nel 2013 sarebbero iniziati i test nucleari della Corea. Speriamo che le predizioni di Homefront si fermino qui, visto che nel gioco si predice anche una forte crisi economica americana e un'epidemia aviaria nel 2022. Beh, se vogliamo dirla, tutta l'influenza aviaria c'è già stata qualche anno fa, eppure siamo ancora qui. Chi ha paura degli uccelli? Che poi mi ricordo un episodio che tuo fratello aveva cominciato ad allevare canarini proprio durante il periodo dell'influenza aviaria. Ma cosa c'è? Io avevo paura di quella gabbia dei canarini, pensavo a questo. Final Fantasy VIII uscì nel 1999 ancora nel pieno della TV in bassa definizione, in un periodo in cui l'IPTV, ovvero le trasmissioni con connessione internet, erano solo in SD e di certo non ancora la norma. Ebbene, nel gioco di ruolo di Squaresoft, Squall spiega che le comunicazioni radio non sono più utilizzate e che le stazioni ormai usano regolarmente trasmissioni online in HD. Beh, questa era un po' più prevedibile. Però ha in un certo senso predetto YouTube, trasmissioni online in HD. Ma ripeto, era una cosa abbastanza prevedibile perché tutto sommato chi era dentro a questo mondo, della tecnologia, dei videogiochi in generale, si aspettava l'on demand. Si parlava tantissimo dell'on demand e noi pensavamo che cazzo è stato on demand. On demand, ora invece è all'ordine del giorno, ora ci stupiamo quando qualcosa non è in on demand. Deus Ex Human Revolution è uscito nel 2011 ed è ambientato nel 2027. Nel gioco il primo ministro canadese è un certo Mr. Trudeau. La cosa interessante è che Justin Trudeau è effettivamente diventato primo ministro canadese nel 2015, quattro anni dopo l'uscita di Human Revolution e nuovamente rieletto nel 2019. Certo, per arrivare al 2027 dovrebbe vincere un'altra volta, ma non si sa mai. Tra l'altro è un primo ministro molto giovane, quindi può starci che nel 2027 sia ancora il primo ministro del Canada. Ma non è che poi c'è la scadenza? Si, ogni quattro anni. Lui è stato già rieletto. Non è come negli Stati Uniti che fai quattro anni, poi altri quattro anni e poi ciao Trump. Questo non lo so, però in qualche modo è diventato primo ministro. Potevamo informarci su Wikipedia come funziona il sistema elettorale canadese, ma tutto sommato il Canada, ma chi se lo incontra? L'avevamo comunque predetto Deus Ex Human Revolution, va bene. Vive il Canada. Tranne la città di Asbestò, che è interamente fatta di amianto. Esatto, salutiamo. Salutiamo Asbestò, chi è rimasto ovviamente. Quella non mi piace. Una predizione ancora più interessante e anche inquietante si trova nel primo Deus Ex, uscito nel 2000 e ambientato nel futuro. La prima cosa che salta immediatamente all'occhio guardando lo skyline di New York è che questo è privo delle torri gemelle, cosa abbastanza strana visto che le due torri costituivano un'importantissima caratteristica della città all'epoca dell'uscita di Deus Ex. Inoltre all'interno del gioco si cita un attacco terroristico avvenuto nella città, tutto questo un anno prima che un vero attacco rimuovesse realmente le torri gemelle dallo skyline di New York. Gli sviluppatori sono stati interrogati sulla cosa, cioè come mai mancano le torri gemelle? Capirai, dopo quell'attentato effettivamente si è partita anche con una sorta di caccia alle streghe, cioè ci si insospettiva per la qualsiasi. Esatto, e loro hanno risposto semplicemente non avevano abbastanza memoria per poter... Fare le torri gemelle. Esatto, che sono abbastanza grandi. Però ne avevano abbastanza per inventarsi l'attacco terroristico. Non ce la raccontate giusta, vabbè in realtà sì. Comunque noi siamo stati, no? Dove c'è stato Ground Zero. Sì, esatto. Non sai, è stata una cosa molto toccante. Sì. E non entriamo nel merito della questione, però tutto sommato è stato un evento che ha segnato i Raiden e Midden adolescenti, che non ci conoscevamo neanche, però mi ricordo quel 2001 è stato particolarmente segnato da questo evento, da questo accadimento che molti di voi conosceranno soltanto per sentito dire perché o erano troppo piccoli o addirittura non c'erano. Ma gli anzianotti come noi sanno di che cosa stiamo parlando. Altra predizione relativa al disastro delle torri gemelle si trova nella cover di Command & Conquer Red Alert 2, uscito nel 2000. Nell'immagine infatti si vede molto bene un aereo dirigersi verso le due torri di New York. Questa sembra una predizione involontaria, visto che probabilmente voleva raffigurare una guerra generica contro la città, fatto sta che subito dopo la tragedia EA sostituì la cover con un'altra differente. Ma mi ricordo a tal proposito che ci fu sempre nell'ambito dell'attacco alle torri gemelle, ci furono anche storie per Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Cioè addirittura Kojima fu costretto a tornare nel gioco perché nella prima parte, senza spoilerare, si intravedeva appunto la zona di New York con le torri gemelle. Insomma si è dovuti ritornare appunto a rimaneggiare il gioco proprio per evitare di urtare la sensibilità degli americani in quel periodo e del mondo in generale in quel periodo particolarmente sensibile alla questione. Il primo Tom Clancy's Ghost Recon uscì nel 2001 e la sua trama riguardava una guerra tra Russia e Georgia in un tentativo da parte della prima di riottenere il controllo degli ex paesi sovietici. Ciò che è davvero notevole è che il gioco si è ambientato nel 2008, anno esatto in cui esplose realmente un conflitto tra Russia e Georgia, la nota seconda guerra in Ossezia del Sud. Certo magari non sarà così difficile predire una guerra tra due paesi, ma addirittura l'anno esatto. Che poi ti ricordi, no, nei libri di storia, le elementari, c'erano tutti questi detti, la Prussia, l'Alsazia, la Lorena, la Dalmar, la Dalmazia, l'Alberta. Però, vabbè, vabbè. È tipo il canale. Però è inquietante, cioè nel 2001 vai a predire una guerra del 2008. Zesca sta cosa. A questi non li hanno interrogati. A questi non li hanno interrogati. Ok. Metal Gear 2 Solid Snake è il secondo capitolo della famosissima serie di Hideo Kojima uscito nel 1990. Nel mondo di gioco una forte crisi del petrolio ha causato una carenza di carburante risolta con la produzione di una sorta di biocarburante chiamato Oilex, derivato dalle alghe. La benzina alle alghe è diventata realtà nel 2012 con il nome di Biodiesel B20, da un'azienda di San Francisco. Usatissima, mamma mia, tutte queste... Vabbè, però, però esiste. Eh, esiste. E Kojima lo aveva predetto. Vabbè, è anche questa abbastanza prevedibile, però proprio dalle alghe. Dalle alghe. Evidentemente lui aveva studiato qualcosa, magari c'era già un motivo per cui le alghe potessero generare carburante. Esatto, non sono sempre coincidenze. Certe volte appunto sono degli studi alla base di questi giochi che tutto sommato poi fanno pensare agli sviluppatori, ai game designer. Ma sai che questa cosa che già so e che è in via di sviluppo potrei usarla nel mio gioco per dare un'impronta più futuristica. Beh, insomma, sono passati 22 anni. Ok, però io mi ricordo che si parlava delle macchine a energia solare, delle automobili a energia solare, quando noi eravamo proprio piccoli. Nel 2020 ci saranno le macchine a energia solare. Lasciamo perdere le macchine volanti, quello l'ha detto Ritorno al Futuro, ma alla fine chi cazzo lo vuole a macchine volanti? Ma immaginate che bordello in aria, ma non esiste. Però le macchine a energia solare, dove sono? Non... Altro Metal Gear, altra predizione. In Metal Gear Rising Revengeance del 2013, l'antagonista è il senatore americano Stephen Armstrong. Verso la fine del gioco, il politico blattera un monologo contro Raiden, sottolineando le sue idee che prevedono l'epurazione dei deboli e il potere ai forti, e conclude la discussione con la frase Make America Great Again. Make America Great Again! Sì, si tratta dello stesso slogan utilizzato da Donald Trump nella sua campagna elettorale presidenziale del 2016. C'è da dire che lo ha utilizzato anche Reagan, anche se era un po' diverso come slogan. Figuratevi se uno come Trump poteva inventarsi uno slogan. L'ha preso, ha copiato, ha detto, questo è bello, dai, usiamo. Da Metal Gear. Da Metal Gear, non da Ronald Reagan. Tra l'altro anche il nome Donald, Ronald... Ha copiato il nome. Ha copiato il nome, sua mamma. Ma si ironizza e si satirizza sulla figura politica in carica. Si fa sempre, anche se fosse dell'altra fazione. Esatto. Tra l'altro vorrei aggiungere un'ulteriore chicca che mi è venuta in mente adesso, è di fare le top con Raiden, che ti sforna, ti snocciola questi preziosismi. era stato previsto l'iPhone, o una sorta di telefono del genere, da The Dig di LucasArts del 1995 e tra l'altro è stato codiretto da Steven Spielberg. E c'era questa sorta di palmare, se vogliamo, che nel 95 sì, era più o meno preventivabile, ma somiglia proprio all'iPhone o comunque agli smartphone odierni. E serviva però per comunicare dallo spazio, quindi era riservato agli astronauti in missione. Sì. Questa è una cosa interessante. Oppure no. Quindi aveva uno schermetto? Aveva uno schermo, no, schermo proprio, era tutto schermo. Ah ok, era proprio un tablet, sì. Vabbè, queste cose c'erano anche nel film di fantascienza degli anni 60 e 70. Cazzate, perché ne... sì, in parte... In parte perché se ben ricordi che era la mia Midna, c'era la tendenza degli anni 80 e 90 a pensare al futuro telefono cellulare come una cosa microscopica che si mettesse sul mignolo. Però mi ricordo... Pronto, come dei coglioni noi dovevamo fare... Forse mi sbaglio, qua andiamo a memoria ragazzi. Sì. In 2001 dissi erano lo spazio e c'era un tablet. Il tablet non ricordo, è una sorta di tablet. C'era una sorta di tablet, ora non mi ricordo bene, se non c'era la taglio questa parte. Però era bellissimo che c'era la possibilità di fare le fotografie con una sorta di macchina fotografica a pistola, ti ricordi? Sì. Ci sta, un po' di modernariato made in anni 60, insomma, va bene, ci sta. Comunque, ragazzi... Devo dire, è molto interessante, ragazzi lasciateci un like se vi è piaciuta questa puntata e magari me ne portiamo altre. Ma certo che vi è piaciuta. Ovviamente, se ci sono altri giochi che hanno veramente predetto il futuro. Noi vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima. Ciao.